Primo allenamento della Nissa al Tomaselli, dopo la collocazione del manto sintetico. Si respira aria di nuovo nello stadio di Pian del Lago, certamente più consono di una squadra di calcio che rappresenta un capoluogo di provincia, con una tradizione calcistica di lungo corso. Giocatori e tecnico hanno avuto modo di svolgere il primo allenamento in un clima di festa. C'è soddisfazione per il ritorno nell'impianto che in passato ha ospitato anche partite del Palermo in Serie B e del Catania in C, oltre all'indimenticabile Italia-Croazia Under 21 e alla straordinaria promozione in Serie D della Nissa stellare di Luca Mannino nel 2008. Uno stadio che ha fatto da cornice anche alla visita del Papa nel 1993. Insomma, il Tomaselli si è ritagliato nel tempo, uno spazio importante nella storia di questa città, non solo sportiva. Anche se per molti il Palmintelli rimane il campo dei trionfi più belli legati alla Nissa che militò nell'Interregionale in Serie C. Ricordi sbiaditi che si coniugano a fatica con le condizioni attuali del campo sportivo di Viale della Regione, ormai inadeguato da tutti i punti di vista. La Nissa, archiviata la vittoria sul Resuttana San Lorenzo, si prepara la trasferta sul campo della Leonfortese, squadra che lotta, denti stretti, per la permanenza nel campionato di eccellenza. Partita insidiosa per Marne e compagni, chiamati ad una prova di carattere per conquistare un risultato positivo. Il debutto dei biancoscudati sul manto sintetico del Tomaselli è previsto domenica 11 dicembre alle ore 15 contro il Mazzara.